dal tg5 ha inviato toni capozzo alla vostra destra potete osservare un esempio di chiaso un attacco di un porziosauro contro una ricciosaura alla faccia sinistra notate una porchisa a un pranzo girandovi vedete dov'è il panzosauro pesa il panzosauro scusa la porriccia è un esemplare carnivore un attimo chiudiamo il collegamento